Assicurarci il mio uomo della terza luce, con la vita al duce. Ora il messaggio sarà ripetuto. Non abbiamo voluto questa guerra. Volevamo solo prenderci cura della nostra gente, assicurarci che le nostre famiglie fossero felici e con la pancia piena. Ma siamo pur sempre una nazione operosa e audace, e a volte ci piace avventurarci fuori dall'Italia. In tali casi è necessario ampliare i confini padri per assicurare la sicurezza e il benessere della nostra gente. La nostra gente deve protegere dai barbari e dai quelli che vogliono vedere l'Italia Capitolare. America e la Gran Bretagna non possono supportare l'imperio Mangamino Chato. Noi vogliamo solo defendere il nostro Capitone. Accurareci il triunfo della terza luce, con Capitale D'Arge. Cosa? 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 Non mi bisogna. In registro di Sofie, dice che lei è stata riuscita in un gioco. per riempiare i confini matri per assicurare la polizia la polizia la polizia per riempiare i labilandi vai Grazie a tutti. 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 un rumore. Ho sentito un suono Là c'è qualcosa Ho sentito qualcosa Sembrava Che cosa è stato? Un suono Ho sentito un rumore Che cosa è stato? Ho sentito qualcosa Là c'è qualcosa Ho sentito un suono Un rumore Ho sentito 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 un rumore No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aspetta. Hey. No, 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 no. Penso di aver sentito qualcosa. No, 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 no. Sembrava... Ho sentito un rumore. Ho sentito un suono. Ho sentito un rumore. Ho sentito un suono. 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 Ora se n'è andato! Ma è meglio tenere gli occhi aperti! Che cosa è stato? Sembrava... Hai sentito qualcosa? Ma là c'è qualcosa! Oh sentito un sforo! Oh my god! 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 Such ihn! Weitertuch! Nebenbei noch da! Haltet die Augen auf! Ihr müsst ihn finden! Weitertuchen! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.